Come guadagnare fino a 100 euro con SwissBorg? Come guadagnare 100 euro di criptovalute gratis grazie a SwissBorg? L'exchange che abbiamo già trattato all'interno del canale su Cryptovalute Italia troverete questo tutorial SwissBorg tutorial in italiano dove spieghiamo come funziona la piattaforma ma una cosa che probabilmente non era ben chiara a molti era il bonus di benvenuto. In questo momento SwissBorg dà una grande opportunità di ottenere un bonus di benvenuto fino a 100 euro immediatamente sbloccabile, immediatamente prelevabile una piattaforma che ci dà la possibilità come ho detto anche nel video precedente oltre a diversificare che è fondamentale in questo settore di sfruttare la possibilità di acquistare le criptovalute ai prezzi più bassi di mercato guardate il tutorial, ripeto, se volete capire come funziona. Benvenuti quindi su Cryptovalute Italia benvenuti in un nuovo video oggi abbiamo deciso di portarvi un sostanzioso bonus come sempre prima di andare avanti vi invitiamo ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina di tutte le notifiche per non perdere altri contenuti come questo e naturalmente seguiteci anche sul nostro gruppo Telegram sulla nostra community Cryptovalute Italia official, la nostra nuova community il nostro nuovo canale dove pubblicheremo aggiornamenti relativi al mondo delle cripto bonus in criptovalute come questo ma anche ben presto porteremo all'interno del nostro canale Telegram dei giveaway quindi regaleremo delle criptovalute solo ai nostri iscritti al canale Telegram inoltre vi ricordo che avete una straordinaria funzione per supportarci Supergrazie dove potete donare da 2 euro a 50 euro vi ricordo che con commento Supergrazie avete la possibilità di fissare in alto il vostro commento e quindi chiedere dei contenuti che poi noi andremo a realizzare per poter sbloccare questo bonus è molto semplice quindi seguitemi con attenzione la prima cosa che dovete fare è cliccare sul link referral che trovate in descrizione vi ricordo che in descrizione troverete sempre migliori link referral aggiornati con le migliori piattaforme del momento in questo caso specifico vi basterà semplicemente cliccare sul link che trovate inserito all'inizio della descrizione e si aprirà una schermata come questa come potete vedere abbiamo la possibilità di guadagnare fino a 100 euro in Crypto Rewards per l'esattezza quello che noi andremo a guadagnare è il token ufficiale di SwissBorg che naturalmente è subito rivendibile e sarebbe CHSB che ricordo nel video tutorial che abbiamo realizzato abbiamo trattato ampiamente una cosa molto importante se noi andiamo a vedere il massimale di questo token e quindi vi fa capire anche le potenzialità di questo bonus ha un massimale storico che è stato ottenuto quando vivevamo il momento di bull market massimo il 4 maggio 2021 a 1,65 quindi questo cosa vuol dire? vuol dire che potenzialmente se voi riuscite a ottenere il bonus di 100 euro in CHSB e non li vendete questi 100 euro quando varranno naturalmente 1,65 vuol dire che se fate un piccolo calcolo praticamente vi porterete a casa un controvalore molto ma molto più alto qua parliamo di più o meno un 4x, 5x, 6x più del 6x, quasi 7x quindi praticamente questi 100 euro potrebbero diventare 6-700 euro di controvalore capite bene che è la cosa abbastanza allettante infatti una cosa che dico sempre è soprattutto in momenti di bear market al di là dell'accumulo e tutto il resto è fondamentale ottenere i bonus in crypto perché questi bonus in crypto in realtà potrebbero rilevarsi molto più alti rispetto ai classici bonus che si ottengono quando siamo in bull market proprio perché magari lì abbiamo raggiunto il massimale del valore di quella determinata crypto quindi quello che voi dovete fare è cliccare sul link cliccare su accetta l'invito fatto questo dovete scaricare l'app perché non c'è per adesso l'exchange per quanto riguarda il web o il desktop ma c'è solo l'app sia per app store sia per google play una volta scaricata l'app effettuate la classica registrazione ricordate di inserire i dati corretti non sbagliate i documenti corretti non sbagliate la registrazione è semplice e veloce una volta che siete stati verificati all'interno della piattaforma l'unica cosa che dovete fare è depositare 50 euro di euro per esempio di valuta fiat euro oppure anche di crypto potete andare a depositare comunque dovete fare un deposito di 50 euro io vi consiglio per sicurezza di depositare 52, 53, 55 euro per essere sicuri di prendere il bonus una volta ottenuto il bonus praticamente quindi una volta depositato otterrete il bonus e questo bonus come funziona? andiamo a vedere dettagliatamente qui spiegato all'interno di questa pagina io traduvo in italiano così abbastanza semplice innanzitutto qui ci fa intravedere che sono dei ticket quindi noi otteniamo questo ticket quindi registrandoci andiamo a ottenere questo ticket questo ticket lo andiamo a grattare qui c'è proprio la possibilità di grattarlo e possiamo vincere da un euro fino a 100 euro quindi non per forza vincerete i 100 euro però ripeto essendo che comunque questi sono token che ci vengono regalati che comunque possono essere subito venduti o come vi spiegavo io tenuti in funzione magari di un nuovo bull market comunque in ogni caso quello che voi potete fare è semplicemente registrarvi dal link una volta registrati andate a depositare i 50 euro andate all'interno della sezione di reward e grattate il vostro biglietto fatemi sapere nei commenti naturalmente qual è il bonus che avete ottenuto se avete ottenuto 2 euro 50 euro 100 euro per noi è importante sapere naturalmente quanto sta guadagnando la nostra comunità ricordo che poi una volta ottenuto il bonus questo lo ripeto tante volte ma è fondamentale perché magari molti hanno paura di ottenere il bonus perché pensano poi di perdere i propri fondi noi 50 euro che depositate potete prelevarli naturalmente secondo noi ha senso comunque detenere dei fondi all'interno di SwissBorg proprio anche in ottica di diversificazione è semplicemente perché abbiamo analizzato la piattaforma e ci piace tantissimo quindi comunque è una delle piattaforme che magari ha senso di utilizzare c'è la sezione earn ci sono tante altre sezioni che a mano a mano verranno aggiunte quindi possiamo anche mettere a rendita le nostre cripto ma attenzione non finisce qui perché anche voi avrete la possibilità di invitare i vostri amici e quindi invitate i vostri amici attraverso il vostro link loro si registreranno depositeranno 50 euro o più di 50 euro e sia loro sia voi otterrete questo ticket da un controvalore che va da 1 euro fino a 100 euro quindi da questo punto di vista potrete anche invitare senza problemi i vostri amici i vostri familiari i vostri parenti siamo arrivati alla fine di questo video vi ricordo che in basso e in descrizione troverete il link per poter ottenere questo bonus attendiamo i vostri commenti fateci sapere che bonus avete ottenuto ciao e a presto